Prima di entrare a come dirne, nel vivo della discussione, volevo, sono pure appuntato, enunciare due a quelle che secondo me possono essere principi che ci possono e ci devono guidare. Che la finanza ha origine nella natura stessa dell'uomo e la sua finalità è la crescita integrale dell'uomo. Pensare che possono essere numeri e soldi da far girare probabilmente ci consegna la crisi che abbiamo non ancora alle spalle e a cui stiamo assistendo. Questo lo dico anche perché ciascuno di noi sa che è difficile incontrare uomini che si sacrificano per i vantaggi degli altri e se li si incontra sono eccezioni rare. Mentre è più probabile che incontriamo uomini che approfittano dei sacrifici degli altri e quindi voglio dire che voi siete tutti e sapete quali possono essere le conclusioni rispetto a questo mio ragionamento che tra l'altro sono il numero crescente. Detto ciò mi sento veramente stamattina di dare un ringraziamento non formale al professor Brambilla, lo facciamo tutti solitamente, da questo e dall'altro lato della sala, perché vediamo in lui un coordinatore, un uomo che mette insieme un po' vari pezzi. No, io vedo qualcosa di più. Vedo un elemento fondamentale in questo Paese che porta la domanda dal mondo previdenziale, cioè di trasmissione documentale alle istituzioni. Lo fanno anche altri, non so, con la stessa massa, con la stessa intensità, con la stessa competenza, con la stessa concorrenza di idee, perché qui tutto si può dire tranne che non parlino quello che la pensano in maniera bianca, in maniera nera, in maniera rossa e in maniera gialla. Poi ovviamente uno tira le conclusioni. Ed è fondamentale questo suo lavoro perché la domanda del mondo previdenziale alle istituzioni regione arriva attraverso di tutti. Poi ha altri canali. Lui ha fatto un accenno nella introduzione dicendo che alcuni preposti al mondo della previdenza complementare, magari io e lui pensiamo ad alcuni diversi, però non lo so lui a cosa si riferisse, non fanno completamente i loro lavori. Io dico che alcuni non lo fanno affatto, perché alcuni, anche con capitale pubblico, se andate a leggere gli statuti, fanno altro e non sono nemmeno allineati a quello che prevede il legislatore, cioè ai limiti della spesa, del personale, non sono allineati ai limiti della trasparenza, che il legislatore lo prevede, non io. Ci sono i direttivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Detto ciò, ne parliamo e abbiamo modo per approfondire. Stamattina, vi devo dire la verità, vivo una sorta di dualismo con me stesso, perché non riesco a capire se vivo in un Paese dove ci sono, come dire, forti sviluppi, quindi grande possibilità occupazionale o in un Paese in crisi. È ovvio che voglio dire anche la mia, no? È vero come ricordava l'illustre ingegnere gamberale, però di perdere, mi rendo conto, uno non potrebbe legare, però mi dà lo spunto che il benchmark che guardano i Paesi europei può essere, che ne so, l'alta velocità. Ma c'è anche un altro benchmark, quello delle ferrovie regionali. Non lo so, se voglio dire questo qui, chi lo guarda. Non sto rispondendo a lui, lo sto dicendo a noi stessi. Quindi noi dobbiamo tenere presente che questo è un Paese dove dei fondi strutturali europei si spende a malapena il 40%, se ci arriviamo, perché questi sono i dati che non fornisco io, ma fornisce chi è competente in materia. Questa cosa significa, che cosa comporta? Comporta che nel solo biennio 2012-2013 abbiamo avuto un costo, l'Italia ha avuto un costo di 82 miliardi di euro per ragioni economiche, ambientali e sociali. Cioè il non fare, e ci sono studi autorevoli, adesso non vi cito tutto qui, è previsto che nei prossimi 10-12 anni ci potrebbe costare 900 miliardi di euro. E sempre raccogliendo una brillante affermazione dell'ingegnere di chi si occupa di infrastrutture, conosce anche un po' le regole. E qui bisogna mettersi d'accordo. Cioè queste regole bisogna scriverle una volta per tutte. Cioè occorre fare un'analisi dei costi-benefici, occorre dare una normativa certa che riguarda quindi a questo punto anche i fondi pensioni. Perché se un po' di anni le cose sono andate bene per i motivi che abbiamo ricordato prima e anche in altre occasioni, non è il caso di rifare l'elenco, è evidente che ci sono due problemi. Uno lo consegno solo come titolo, che è quello di riconsiderare probabilmente, ripensare al sistema previdenziale, perché il 166 sicuramente dà una prima risposta, ma forse bisogna anche usare un po' di più. E addirittura io vedo che alcuni sono molto timidi rispetto al 166, rispetto al famoso o famigerato, dipende da che punto di vista lo si guarda, conflitto di interessi. E qua ce ne stanno tanti di soggetti in conflitto di interessi, pubblici, privati, associativi. Quindi va fatto l'elenco, vanno messi a parte perché faccio questo ragionamento? Io non è che faccio il moralista, lo faccio per una questione pratica, poi arrivo al punto e finisco. Perché vanno messe, come dire, una serie di incompatibilità, intanto che sollevano i consigli di amministrazione da responsabilità. Ma perché mi devo mettere a disciplinare, a indicare vestito per vestito, persona per persona, voce per voce, funzione per funzione? E quindi, voglio dire, è anche un invito insomma nel ruolo che rivesta a tutti i fondi pensioni, a non essere troppo rigidi, stringenti, a non chiudersi troppo e quindi a fare cose, come dire, blande e a non essere troppo esagerati. Interpretiamo la norma per quello che dici e poi ovviamente senza dimenticare che abbiamo al centro, qua sento sempre a parlare degli interessi, e io lo ripeto sempre a furia di stangare e stangarvi. L'unico che ha interesse è l'aderente. Gli altri sono interessi concorrenti, che fanno una prestazione e io li pago per quella prestazione. Non ci sono altri interessi. Cioè ogni tanto, forse qualcuno di noi lo dimentica, l'interesse del Paese, gli iscritti ai fondi pensioni, come già ricordava pure il professor Brambilla, già partecipano per il 30%, poi un 1% sulle azioni, poi sono creditori presso l'Inps, poi pagano le tasse. E allora, nessuno di noi si sogna di non investire se ci sono le occasioni e se il valore rischio rendimento ci convince in questo Paese. Noi non ci siamo dimessi da italiani, come purtroppo hanno fatto molti imprenditori. Perché sapete che molti sono andati all'estero, sono emigrati, poi stanno tornando. E beh, insomma, qui bisogna essere molto più franchi. Io poi lo so che molti sono, non molti, tutti sono molto più bravi di me in queste cose perché le conoscono bene. Ma sempre perché mi ricordo che l'uomo è difficile che faccia sacrifici per gli altri, io vorrei tenerlo un po' presente a me stesso ogni volta che faccio l'amministratore e credo che molti di voi siano anche d'accordo, conoscendovi anche personalmente. Quindi, perciò dicevo, se non mettiamo mano con le scarse risorse pubbliche che ci sono a un Paese che invece di fare progetti over design, come dice qualcuno, si fa progetti che servano perché le risorse pubbliche non ci sono, e quindi cominciamo a pensare a un Paese che quello che ha fatto l'ha fatto bene e doveva corretta le ferrovie, cominciamo pure su quelle regionali. Se no avremo un altro tipo di costo, perché altrimenti quelle pure si spostano, quelle che vanno da un paesino all'altro, in Lombardia o in Campania, a poca importanza, insomma, nel nostro Paese, cominciamo a pensare anche le cose che vanno in qualche maniera ristrutturate, non sempre a grandi progetti, di cui paghiamo solo il progettista, poi l'inizio dei lavori, poi facciamo causa e poi non si realizzano. Poi è certo che ci sono anche tante altre note positive, per esempio a me vengono in mente altre note positive, ma c'entrano poco col Paese. Cioè noi siamo i primi in Europa nel settore della moto, con il 40%, non so il Paese quanto c'entri in questa cosa. Cioè nel senso che sono italiani e quindi c'entra il Paese, ma lì quelli l'hanno fatto da solo, non mi risulta che abbiano avuto finanziamenti. C'è l'intraprendenza, la fantasia, la creatività di quegli imprenditori e siamo i primi. Siamo credo il 12% della fornitura mondiale nel settore ottico, a me si sono pure rotte gli occhiali, ma sto cercando di sopperire in un altro modo. E quindi voglio dire che questo non credo che c'entra tanto il sistema Paese, c'entra chi ha avuto questa visione, questa lungimiranza. Siamo, qualcuno di voi lo saprà sicuramente, quelli che hanno fatto i primi interventi in Italia sostituendo una mandibola a Padova, l'hanno fatto in titanio, pesa pochi grammi e quindi voglio dire che c'è un valore tecnologico a cui guardano tanti altri in questo Paese, non ricordi bene i culturali eccetera. Quindi se facciamo veramente, allora cominciamo a guardare a tutte queste cose. Poi l'economia reale qualcuno me la deve spiegare che cos'è, perché io l'economia reale l'ho interpretato così. C'è un progetto, perché se è qualcosa di decotto, come già avvenuto qualche mese fa, dove gli diamo i soldi, poi si pagano i debiti e cose, quella non è un'economia reale, quella è un'altra economia. Allora, se invece è un progetto su cui onestamente chi ha le competenze si può esprimere, lo può valorizzare, io so che facendo un investimento di medio-lungo termine ho un rendimento, quindi il rapporto rischio-rendimento, ma nessuno si sottrae. Cioè qui non si deve creare, qua stiamo creando l'idea, qui stiamo creando due idee. Una, che adesso, come ricordava il dottor, l'espertise specifica, voi sapete che va avanti. Io sono d'accordo, i fondi pensioni, la governanza, sono i consigli di amministrazione innanzitutto, no? È giusto che subiscano, come dire, delle emissioni, integrazioni, perché il board più accombosito meglio è nell'interesse di tutti, ma non è che qualcuno se lo immagina in destra in un certo modo, perché senza offese per i professori onesti, ma noi abbiamo anche molti professori interessati, non è che coinvolgere ognuna commissione parlamentare, ognun consigli di amministrazione, chi dice quello che io mi aspetto che si dica, significa che quello è esperto, è esperto di un'altra cosa. E quindi su questo, voglio essere chiaro, lo dico veramente nell'interesse dell'aderente, dei fondi e soprattutto degli operatori. Quindi, ripeto, io non la farei proprio così semplice come si tenda di dire, no? Spingere senza convinzione non ci porta a nulla di buono, ci può portare, perché vedete, nella crisi, cioè io sento un mondo qui che si sta riprendendo, ma a Milano mi risulta che molte banche stanno in esubito di personale, ci sarà un motivo, significherà qualche cosa? Non lo so, insomma, è inutile che citare le cose. Un grande italiano, io dico un grande italiano, assumendosi una responsabilità, non so quanto sarà efficace, ma che Draghi, ha fatto un'operazione di questi giorni che gli economisti cosa sapranno spiegare meglio di me. Ha detto addirittura alle banche, se voi prestate i soldi, io le dico con parole poveri, non sono un grande economista, ne sono nemmeno piccolo, sono solo uno che, come dire, soffre e goda dell'economia, a seconda di come va, ha detto alle banche, se voi prestate i soldi, oltre un certo limite, io vi do anche lo 0,40%, e vabbè, scusate, ma ne fa non 10 miliardi al mese, da 60 passa 80 miliardi, è più in missione, come dire, nell'economia reale di questi, io penso che tutti i fondi pensioni insieme non lo possono fare, è chiaro che riguarda l'Europa, ho capito, sì, ma il nostro Paese potrebbe avvantaggiarsi, quindi le occasioni per fare gli investimenti, io credo che già ci siano, la verità è che noi dobbiamo scurlarci di dosso questo vestito, che talvolta portiamo, che io sono d'accordo, questo è un Paese virtuoso, perché si regge sulle spalle di quei giganti che hanno l'intelligenza e la visione rispetto al futuro, e che al di là di tutti i lacci e l'acciuole che gli mettono, poi riesce ad andare avanti, ma noi purtroppo siamo più bravi a fare vedi ingrociati che a fare, come dire, massa critica a sostegno di questo sviluppo. Allora, in conclusione e ho finito, che cosa ho voluto dire con tutto questo ragionamento che magari, come dire, vi ho distratti un po', vi ho portato, che credo che sia fondamentale una cosa per fare gli investimenti nell'economia reale, in tutti i tipi di investimenti, qualunque investimento, la reputazione. Allora, prima voglio fare un passo in dire sul 166, ripeto, il conflitto di interesse, guardate che è fondamentale. Noi non possiamo stare in un consiglio di amministrazione due ore, ed è comune a tutti, per risparmiare 3.000 euro e poi dopo magari da un altro lato vanno via non so quanti euro, non mi fate dire una cifra che il rischio di essere, come dire, di sbagliare per difetto. Dobbiamo stare attenti e quindi quello va disciplinato per bene. L'altro aspetto è la reputazione, che non significa che il nostro è un mondo di disonesti, anzi è un mondo di onesti che ha dato quei risultati che in concorrenza tra di loro, con le loro incompetenze o competenze, si sono, come dire, vicendevolmente in qualche scambiate delle idee e hanno dato dei risultati che sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti. Adesso già ci sono quelli che prevedono che il mercato andrà male, ma quello se andrà male andrà male a livello mondiale per altri motivi, non perché nei fondi pensione c'è questa gente che non è capace di amministrare, cioè il fenomeno è più generale, non credo che bisogna ridurla a questo, perché poi ho sentito un'affermazione di un autorevole risponente che non cito, ma lo trovate lì su YouTube da qualche parte, che ha detto che nell'economia reale i fondi ci devono mettere un po' di soldi, se partecipano tutti le perdite poi si ammortizzano, vengono ridistribuite e quindi alla fine poi nel medio e lungo termine si recupera. È giusto? Ho detto, non ho sentito solo lì, abbiamo sentito in danno. Vabbè, ha detto cipolletta per togliervi la curiosità, quindi ha un convegno MEFOP e sta lì, non è che sto dicendo sciocchezze, è testuali parole, quindi su questa cosa ritengo che la reputazione sia fondamentale, la reputazione è fondamentale perché noi non dobbiamo dimenticare che praticamente la reputazione è il primo vero investimento che noi facciamo ed è un valore che non lo si apprezza immediatamente, si apprezza nel medio periodo, con la sostenibilità del business, quella che ci dice se abbiamo fatto bene o male una scelta, la reputazione. E mi piace concludere, io che non sono un economista, con una famosa massima di un economista che è Keynes, no? Il quale che cosa dice? La saggezza del mondo insegna che per la reputazione meglio sbagliare in maniera convenzionale che avere buoni risultati in modo anticonvenzionale. Grazie. 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 Grazie.